Alla fine di questo mese, a Dio piacendo, mi recherò a Lund, in Svezia, e insieme alla Federazione Luterana Mondiale faremo memoria, dopo cinque secoli, dell'inizio della Riforma dell'Utero, ringrazieremo il Signore per cinquant'anni di dialogo ufficiale tra luterani e cattolici. Così Papa Francesco ha parlato dello storico evento ecumenico del 31 ottobre ai luterani tedeschi in pellegrinaggio in Vaticano, accolti in Aula Polo VI il 12 ottobre. La commemorazione nella Catedrale Luterana di Lund sarà presieduta dal Papa, dal Vescovo Munib Yunan, Presidente della Federazione Luterana Mondiale e dal Segretario Generale della Federazione Martin Junge, che Francesco ha incontrato il 13 ottobre in Vaticano da capo delegazione della Conferenza dei Segretari del Christian World Communance. Le sue attese quelle del Cardinal Koch, Presidente del Dicastero Vaticano, per la promozione dell'Unità dei Cristiani, che parteciperà alla commemorazione. Si tratta di un grande incoraggiamento. Credo anche che sia un segno potente il fatto di essere in grado di portare ad un mondo martoriato da così tante guerre e violenze, la testimonianza che è possibile abbandonare i conflitti e progredire verso l'unità. Abbiamo radici comuni in Cristo, abbiamo una fede comune. Ecco dove abbiamo trovato la forza e l'incoraggiamento per compiere questo importante passo. La prima commemorazione della riforma nell'età ecumenica. In questo senso è molto importante di fare questa commemorazione insieme e era molto preparato. Una pietra miliare era soprattutto questa dichiarazione comune sulla dottrina della giustificazione 1999 a Augsburg. Dopo abbiamo fatto questo documento dal conflitto alla comunione per la preparazione della commemorazione comune della riforma. La celebrazione di Lund ricalcherà i tre punti forti del documento. La gratitudine per tutto ciò che luterani e cattolici hanno scoperti e di avere in comune, il pentimento per le violenze e le guerre seguite alla riforma e infine la speranza che questa commemorazione comune potrà portare nuovi frutti per il dialogo. Oggi, luterani e cattolici stiamo camminando sulla via che va dal conflitto alla comunione. Abbiamo percorso insieme già un importante tratto di strada. Lungo il cammino proviamo sentimenti contrastanti. Dolore per la divisione che ancora esiste tra noi, ma anche gioia per la fraternità già ritrovata. Il documento dal titolo Dal conflitto alla comunione offre una visione comune della nostra storia, sottolinea le difficoltà risolte e identifica anche quegli aspetti che necessitano di ulteriore lavoro per superarne gli ostacoli. Individua poi cinque imperativi che esprimono le modalità del nostro impegno futuro. Penso che tutto ciò Papa Benedetto XVI ha detto in Erfurt, nella visita su Lutero, che la prima occupazione, la prima premura di Lutero è la questione di Dio. E non un qualsiasi addio, ma è un Dio che ha mostrato la sua faccia nel suo figlio in Gesù Cristo. Allora la centralità della questione di Dio e il cristocentrismo sono le due cose centrali della riforma e che sono molto comuni anche a noi cattolici. La testimonianza che il mondo si aspetta da noi è soprattutto quella di rendere visibile la misericordia che Dio ha nei nostri confronti attraverso il servizio ai più poveri, agli ammalati, a chi ha abbandonato la propria terra per cercare un futuro migliore per sé e per i propri cari. Nel metterci al servizio dei più bisognosi sperimentiamo di essere già uniti e la misericordia di Dio che ci unisce. Ecco perché sarà molto importante per noi vivere prima di tutto una preghiera liturgica, un momento in cui ci saremmo riuniti nella cattedrale di Lunt per poi uscire e recarci allo stadio di Malmo dove leggere alla luce della realtà del mondo il nostro passaggio dal conflitto alla comunione. Ascolteremo testimoni da tutto il mondo che racconteranno come vivono e come la Chiesa possa accompagnare, come la Chiesa possa progredire e dare testimonianza a quanti vivono esistenze talvolta tanto dolorose e così sotto pressione. Tutte le grandi sfide che abbiamo oggi, il grande problema della migrazione, dei rifugiati, ma anche il grande problema del terrorismo, della violenza nel nome della religione, l'ecomunismo del martirio. Perciò oggi nel mondo 80% per tutti ciò uomini che sono persecutati nel nome della fede sono cristiani. Credo che dal primo novembre potremo procedere con una determinazione ancora maggiore nel dialogo sui punti su cui ci sono ancora divergenze, essere più gioiosi nell'annunciare la buona novella di Cristo nel nostro mondo, più compassionevoli nel servizio alla persona e che potremo fare tutto questo insieme. Io sono convinto che oggi molti, molti cattolici e luterani vogliono il cammino verso l'unità e vogliono anche fare tutto ciò che è possibile per fare insieme.